Gentili telespettatori buona giornata. Il PD giurassico, Jurassic PD, c'è un nuovo film per Natale, Jurassic PD, si risveglia da un sonno lungo 3500 giorni al governo in cui non ha fatto una beata fava di nulla, non ha fatto niente, nulla. 3500 giorni in cui poteva fare il salario minimo, il super salario minimo, poteva fare tutto quello che voleva, quindi al governo per tantissimi anni non hanno fatto nulla. Poi la Meloni approva un salario minimo del governo scartando la loro proposta e si infuriano, urlano e fanno i corretti, vergogna, vergogna, ma la vergogna sono loro. Aripigliatevi 3500 giorni e non avete fatto nulla? Avreste potuto fare come 500 salari minimi diversi? Se voi l'aveste fatto, perché guardate che il salario povero, il lavoro povero in Italia non è che esiste dal primo gennaio di quest'anno, il lavoro povero è l'epilogo di una politica proprio lavorativa disastrosa dei sindacati degli ultimi 30 anni. Scusate, ma chi è che ha controfirmato i contratti di lavoro di oggi con quelle retribuzioni da fame? L'ultimo scandalo è quello del contratto del settore sicurezza. 5 euro lordi, 5 euro lordi, allora? Ecco, quando abbiamo un sindacato che ti fa un contratto nel 2023 a 5 euro lordi, capitemi che bene che il sindacato andrebbe chiuso, chiudetelo, non serve a niente, non serve a niente. Chiudo il sindacato e che lo Stato metta una scala mobile, metta una contrattazione minima e basta, perché non servono assolutamente a nulla, niente ammiscato con niente, dicono in Sicilia, niente mescolato con niente, che è il peggio, tu sei il niente mescolato con niente, cioè il nulla assoluto, niente ammiscato con niente, provate a ripeterlo, provate a ripeterlo, imparate un po' di siciliano, niente ammiscato con niente, niente mescolato con niente. Vabbè, cosa dobbiamo fare? 3500 giorni al governo e non hanno fatto una beneamata fava di nulla. E adesso mi sbraitano, mi fanno i corretti e mi fanno i cartelli, non in nostro nome, salario minimo negato. Allora io continuo a voler assolutamente pensare che non sia così, che spero non sia un giochino del governo questo, perché come vi dicevo adesso ci sono sei mesi di tempo, se li ha dati il governo stesso, per mettere a punto una equa retribuzione. Io direi di non far passare sei mesi ma di agire velocemente. Ah già ci sono le elezioni politiche europee, quindi si farà il più vicino possibile alla data delle elezioni, vabbè, ci siamo capiti. E così la sceneggiata di PD e 5 Stelle all'opposizione. Ma come sottolinea Pietro Senaldi su Libero, il PD è stato al governo 3500 giorni, così come a lungo è stato il governo il Movimento 5 Stelle, cinque anni ha di governo che hanno vinto le elezioni e hanno governato un poco tutti. E semplicemente non hanno mai fatto nulla. Si svegliano adesso. Ecco, si svegliano adesso. e questo vi lascia veramente abbastanza a bocca aperta. Il salario minimo, se l'avesse fatto Conte, visto che era nel programma del Movimento 5 Stelle il salario minimo, se lo avesse fatto Conte 3-4 anni fa, oggi avremmo un salario minimo con una sorta di scala mobile, quindi ancorato all'inflazione. Se lui l'avesse fatto nel 2020, nel 2019, c'era l'inflazione all'8%, il salario minimo saliva dell'8%. Due anni di salario minimo, 16% di aumento automatico. Ecco. e invece, niente, non hanno fatto assolutamente nulla. E poi vi racconto di un'altra notizia, il rapporto Censys del 2023. La fotografia degli italiani. cittadini impauriti e inerti come sonnamboli. E nel 2040 solo una coppia su quattro avrà figli. Quindi tre coppie senza figli e una coppia coi figli. Ma le coppie saranno molto poche. Il 74% degli italiani favorevoli all'eutanasia. E nel 2050 ci saranno 4,5 milioni di cittadini in meno. Quindi l'Italia scenderà di quasi un 8% di popolazione. Il rapporto annuale del Censys la chiama ipertrofia emotiva. Il risultato è che oggi per gli italiani tutto è emergenza, dunque alla fine nulla lo è veramente. L'84% degli italiani è impaurita dal clima impazzito. Il 73,4% teme per il futuro del paese, per i suoi problemi strutturali. Il 73% è convinto che per via degli sconvolgimenti globali arriveranno in Italia sempre più migranti e non sapremo come gestirli. Ma il 53% teme il collasso finanziario dello Stato. Il 60% ha paura dell'esplosione di un conflitto globale e il 50% è convinto che non abbiamo abbastanza difese su questo. Ma a fronte di tutto questo l'istituto di ricerca rivela che nulla smuove i cittadini che sono come sonnamboli, sprofondati in un sonno che li rende ciechi davanti ai presagi. Tutto condito da una flessione demografica spaventosa. Grazie a tutti e arrivederci a presto.